Un mito da sfattare è quello della nutrizione parenterale, ovvero la nutrizione fatta per vena con quelle che vengono chiamate le cosiddette sacche, durante il percorso della malattia. La nutrizione parenterale attualmente è una nutrizione che viene fatta proprio quando c'è la necessità importante, una necessità salvavita di tirar fuori la persona affetta da tumore che sta facendo terapie oncologiche e che sono vessate da effetti collaterali importanti come ad esempio durante l'infoma, le eucemie, ma non soltanto persone che stanno facendo chemioradioterapie importanti dove si ha nausea, vomito che impediscano poi di mantenere uno stato nutrizionale adeguato per sopportare i danni indotti dalla terapia. Purtroppo la terapia è sempre ancora intensa anche se ci sono nuove terapie più specifiche, ormonoterapie e altro. Questo fa sì che la nutrizione artificiale parenterale fatta in un contesto che può essere un ambulatorio ma soprattutto un dei ospital o al domicilio può portare dei vantaggi in due o tre settimane una persona esce da una situazione di unpass, di debolezza, di perda di forza e soprattutto di energia e quindi rientra nella possibilità di essere curata. A lato di questo c'è da dire che la nutrizione enterale poi rappresenta allo stesso modo un vantaggio pazzesco per chi ha un problema tumorale e quando l'intestino funziona bisogna utilizzarlo anche se magari è bloccata la via alta e quindi la via digestiva alta per cui bisogna ricorrere a un sondino o a persino una PEG, ovvero un tubino che viene introdotto come un imbutino all'interno dello stomaco. Purtroppo molte persone hanno il terrore di questo perché credono che questo sia un processo inevitabile che porta sicuramente alla morte ma non è così, può essere un percorso breve, un mese, due mesi ma che consente realmente di riprendere forze, riprendere quota, di agire contro il tumore in maniera essenziale.